Il primo appuntamento del corso di difesa personale promosso dal Comune di Silvi prenderà il via sabato 2 marzo alle ore 10. Un'iniziativa totalmente gratuita che rappresenta l'avvio di un percorso per le donne residenti nel Comune Costiero. Per questo progetto il Comune ha concesso l'uso gratuito di una palestra, il patrocino ufficiale e la copertura totale dei costi. Ovviamente è un'iniziativa fortemente evoluta da tutta l'amministrazione comunale a cui ringrazio, un applauso al servizio sociale e all'assessore di riferimento a tutti quelli che veramente si sono impegnati per questa ottima iniziativa soprattutto su un tema importante che è quella della difesa personale e soprattutto per le donne vittime di violenza. Dunque un supporto di questa amministrazione grazie al maestro Bassani, un corso gratuito e un invito che faccio a tutte quelle donne che vogliono comunque praticare un po' di difesa personale. L'obiettivo è quello di offrire l'opportunità alle donne di dotarsi della preparazione tecnica alla difesa personale. Un'opportunità concreta anche la luce dei tanti fatti di cronaca che dicono con drammatica chiarezza quanto sia oramai indispensabile mettere in atto misure di prevenzione del fenomeno. L'incorso è importantissimo e si tratta di un'iniziativa che noi come Commissione per la Pari Opportunità del Comune di Silvi sosteniamo in maniera forte e sentita proprio perché rappresenta uno dei punti fondamentali per poter portare avanti quella politica di sensibilizzazione e di prevenzione a difesa delle donne perché riuscire ad avere una sicurezza del proprio corpo e essere sicuri delle proprie capacità di fronte a una possibile situazione di violenza penso che rappresenti il primo passo per poter difendersi e quindi lottare contro le violenze che si possono verificare. Per garantire risultati concreti la Giunta Comunale ha optato per una collaborazione con la società dilettantistica UASCA diretta dal maestro di fama internazionale Alfredo Bassani. Si parla dall'approccio anche psicologico, anche dai movimenti che la donna deve fare per strada quando esce, quando rientra a casa, quindi ci vuole un comportamento. E poi piano piano viene appianato con le tecniche perché devono imparare le tecniche dell'antico Jiu Jitsu che cos'è il Jiu Jitsu? È l'arte dei samurai ed è quell'arte che ha creato diciamo tutte le discipline delle arti marziali sono nate tramite il Jiu Jitsu.